Musica Lo diciamo sempre anche perché spesso poi a fine gara ci viene riconosciuto quanto il fronte dal punto di vista tecnico, tattico, insomma sia una squadra preparata, sia una squadra che dà effettivamente tiro da torcere, però poi il risultato spesso non poi corrisponde con queste prestazioni che diciamo sempre, quindi c'è da lavorare. Speriamo anche che con questi innesti che sono arrivati possa la squadra recuperare anche laddove c'è quel pizzico di mancata concentrazione o comunque di poca esperienza che poi ci fa arrivare a prendere questi gol. Sì sì sono d'accordo con te, lavoreremo ancora, i nuovi sicuramente si integreranno al meglio perché ne sono certo, perché sono ragazzi che conosco e da questo punto di vista non avremo problemi, certo c'è rammarica. Grazie a tutti.